Le pesserine di mosaico non sono di marmo, sono di pasta di crea, quindi come ampliavano i giochi di testi, già si sviluppavano fino a tutta la luce e le valide di marmo. La tecnica si chiama opus verumiculatum, perché effettivamente le pesserine erano, non dei vermiceli, ma erano molto piccole in realtà, da dare la sensazione a chi si trovava qui sotto, che si trovava in realtà, ma quasi di osservare una pittura, e di vedere poi il passaggio di un po' di più, cioè la sua vita è molto piccola, la città è molto visibile. La storia è una cosa che si chiama, lui è un professeo che ha un po' di meno, un viaggio, un po' di meno, un po' di meno, e lui e i suoi compagni riescono a cercare, e non a scondersi sotto alle pecore, appunto, dei cittadini più piccoli temoli, riescono a fuggire da un sacco di cipropi. Perché raccontare qui questa storia? E perché nella conoscenza la troveremo molte volte, con Isse, Acquire e altri personaggi della guerra, della guerra di Troia? Perché con questo tipo di decorazione Verone voleva esaltare le origini mitiche e divine della propria dinastia a cui apparteneva.